Ho incontrato un detenuto, vi faccio un esempio tra tanti, che mi aveva scritto mesi fa dal carcere di opera. Questo detenuto si trova sulla sedia a rotelle, è impossibilitato a camminare e di conseguenza è impossibilitato ad uscire al di fuori della propria cella se non grazie all'aiuto di due o tre detenuti che si fanno carico di trascinare la sua carrozzella giù per le scale. Lo spaccato di vita carceraria a cui è assistito la senatrice Laria Cucchi visitando la casa circondariale di Lecce conferma la situazione difficile nel capoluogo salentino come altrove per i detenuti ma anche per chi in carcere lavora. In questo istituto sono detenuti esattamente il doppio delle persone che questi luoghi potrebbero contenere a fronte di un sottodimensionamento del personale. Vi dico i numeri, parliamo di 1.400 detenuti con 600 agenti in servizio. Questo vuol dire che il carcere diventa una sofferenza per il detenuto ma anche per chi è qui dentro è costretto a lavorarci. L'esponente di sinistra italiana, accompagnata dai garanti regionali dei detenuti, riferisce del problema inerente alle patologie psichiatriche. C'è un numero elevato di detenuti affetti da questo tipo di problema, ci sono al momento solamente due psichiatri, dico bene, e diciamo siccome sappiamo, lo so io, ma meglio di me lo sanno i garanti, quanto poi vivere in situazioni del genere possono contribuire all'aumentare del numero dei suicidi, io direi che la vera emergenza diventa quella di mettere mano a questo aspetto che sembra nessuno stia prendendo in considerazione.